Tutto nasce da un lavoro che abbiamo fatto in provincia di Varese rispetto alle situazioni di estrema emarginazione e vorremmo fare due riflessioni insieme alle persone, gli operatori, i politici, tutti quanti che si occupano di questa problematica. Siamo contenti di poter parlare di una problematica che è una problematica reale, qui di fronte abbiamo una stazione centrale e basta vedere chi bivacca quotidianamente la stazione centrale e capiamo cosa vuole dire estrema emarginazione. Noi abbiamo preso in esame la provincia di Varese soprattutto e alcuni episodi che riguardano sia l'emigrazione ma che riguardano anche l'estrema povertà e le persone che pensano di non avere un posto e una collocazione in questa società. Vogliamo così un po' sensibilizzare da una parte le istituzioni che trovino strategie e politiche per fronteggiare questo problema e dall'altra parte la gente che o non vuole vedere o se vede è per criticare e basta senza pensare che dietro alle persone che incontriamo che vivono quello stato di emarginazione c'è un essere umano. Credo che il convegno di oggi faccia il focus su una tematica molto importante perché spesso noi parliamo della Lombardia come il motore dell'Italia, uno dei quattro motori d'Europa, una regione traino e sicuramente lo è ma purtroppo questi anni hanno creato anche e hanno implementato purtroppo il disagio di tante famiglie e il numero delle persone che da uno stato magari di difficoltà sono purtroppo scivolate nella povertà purtroppo anche in Lombardia è in aumento. Questa cosa ci deve fare riflettere e tutta la politica ne ha sicuramente già preso atto ma ci servono risposte immediate, urgenti perché le difficoltà sono purtroppo estremamente attuali. La sfida più importante è non fermarsi alla tossicità perché i ragazzi di oggi sono fragili e sono dipendenzi da sostanze che potrebbero anche non essere droghe, sono sostanze che hanno bisogno di andare fuori di testa e quindi mentre noi abbiamo ancora gli operatori preparati con la vecchia e anche gli uffici politici e sociali, anche quelli dovrebbero capire che devono essere più aperti anche all'accoglienza perché chiamarlo tossico, il ragazzo di 16 anni oggi, bene 17-18 anni, non è tossico, è fragile, è dipendente da sostanze ma potrebbero essere qualsiasi sostanza l'importante è che vada fuori di testa e quindi c'è quasi sempre l'alcol e quindi bisogna assolutamente, uno, che gli uffici pubblici siano più aperti nell'accoglienza e bisogna che noi prepariamo gli operatori soprattutto dal punto di vista educativo, non soltanto terapeutico ma dal punto di vista educativo, queste sono le due cose. Poi la terza cosa vorrei che abbonissero i carceri minorili e se il carceri minorili fosse una specie di SOS, una specie di pronto intervento come l'ospedale, sta dentro quei 15 giorni da capire e poi creare delle comunità dove si possono messere tre o quattro, non di più, e io sogno questo.